Il sabato sera, alle 9, non prendere impegni. Sì? Mettiti comoda, perché su Discovery Realtime c'è Uomini. La tua opportunità per sapere come la pensano e capire un po' meglio come sono fatti. Bene, qui ho finito. Ha bisogno d'altro? Puoi scendere di un gradino? Uomini, una buona occasione per inquadrarli meglio. Da sabato 25 febbraio alle 21 su Discovery Realtime.